Si allentano da oggi fino a mercoledì le restrizioni previste per il contenimento del covid durante le festività. Fino al 30 dicembre l'Italia e dunque anche la Toscana è in fascia arancione. Riappono i negozi, anche gli estetisti con facoltà fino alle 21 e sono consentiti rispostamenti senza autocertificazione all'interno del comune di appartenenza dalle 5 alle 22 salvo lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute. Per chi risiede in comuni con meno di 5.000 abitanti è possibile raggiungere alte località, anche di regioni limitrofe entro i 30 km dalla propria residenza però e senza andare verso i capoluoghi di provincia. Rimangono chiusi al pubblico i bar e i ristoranti il cui servizio è disponibile per asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio. È consentito raggiungere le seconde case all'interno della regione. Si possono effettuare visite nelle abitazioni all'interno della regione per massimo due persone non conviventi, senza contare gli under 14, le persone disabili e non autosufficienti. È possibile fare attività motoria e sportiva purché all'interno del proprio comune e all'aperto. Continuano a rimanere chiuse palestre, piscine e centri sportivi così come restano ancora chiusi cinema e teatri. Dal 31 dicembre fino al 3 gennaio aumentano di nuovo le restrizioni. Si torna tutti in zona rossa.